Uno stadio San Paolo a dir poco avaro di punti per il Delfino che in sei sfide giocate nella massima serie in casa dei Campani ha conquistato appena un punto, ben cinque le sconfitte, alcune delle quali anche con punteggi altisonanti. La prima partita giocata in casa dei Partenopei è stata quella della stagione 77-78 quando gli abruzzesi, guidati da Giancarlo Cadè, riuscirono a strappare un pareggio nella prima giornata di ritorno grazie ad una rete di Bertarelli dopo il vantaggio di Beppe Savoldi. Quello di 29 anni fa è stato l'unico risultato positivo conquistato al San Paolo dal Pescara. Nella stagione successiva il Napoli si impose sul Delfino di Gustavo Giagnoni per 2-0 con reti di Improta e Guidetti. Otto anni dopo il Pescara di Giovanni Galeone rimediò un secco 6-0 dal Napoli di Ottavio Bianchi per gli azzurri reti di Bagni, Romano, Careca, Maradona, Giordano oltre ad un'autorete di Benini. Nella stagione successiva quella 88-89 il Pescara sempre guidato da Galeone uscì battuto dal San Paolo con un netto 8-2 per i campani tripletta di Andrea Carnevale, doppiette di Careca e Maradona e gol di Alemao. Pescara in rete con Gasperini ed Edmar. Nella quinta gara giocata in casa del Napoli nel campionato 1992-93 il Pescara fu sconfitto per 2-0 con i campani che portarono a casa la vittoria grazie ad una doppietta dell'uruguaiano Fonseca. L'ultima gara giocata in ordine di tempo fu quella del torneo 2012-2013 quando il Pescara, allora guidato da Cristiano Bergodi, rimediò un pesante 5-1 per i partenopei gol di Amsic, unico superstite oggi di quel Napoli con insigne del Calduri e doppiette per Inler e Cavani. La rete della bandiera del Pescara fu segnata dall'islandese Bikir Bjarnason. Domenica si giocherà l'ottava sfida in Serie A in casa del Napoli dell'ex Maurizio Sarri che proprio a Pescara conobbe la prima panchina importante della sua carriera.